Buongiorno a tutti e benvenuti in questa sessione. Io sono Alessandro Micco, partner solution art di AWS Italia. È il piacere di avere qui con me Andrea Cova e Gianluca Magnante, rispettivamente CTO e Infrastructure Cooperation Manager di Conte.it. Nella sessione di oggi vedremo come AWS vi può aiutare nell'accelerazione della trasformazione digitale e poi vedremo il journey to cloud di Conte.it, quindi come Conte.it è riuscita tramite la trasformazione digitale con AWS e la metodologia agile a raggiungere più di un milione di clienti. La trasformazione digitale è un imperativo. Uno studio degli analisti ci dice che le compagnie che oggi sono nell'indice Sandler Spur 500 il 75% di queste compagnie uscirà fuori da questo indice nel 2027. Ci sono una serie di sfide che devono essere affrontate a partire dalla disruption di nuovi modelli di business che entrano sul mercato, la disruption della supply chain perché la domanda da parte dei consumatori cambia nel tempo e cambia in modo repentino. C'è un tema generazionale. Le generazioni differenti hanno esperienze d'uso, concetti di fedeltà e accesso alla tecnologia in modo totalmente differente tra di loro. C'è un tema di skill perché per poter fare trasformazione digitale c'è bisogno anche di avere delle skill e aggiornarsi, avere conoscenze delle ultime tecnologie. La digitalizzazione ha permesso sì l'accesso ai dati in modo più facile ma c'è anche un tema di sicurezza di questi dati. I dati devono essere trattati in maniera opportuna. E poi c'è il tema di dover gestire quelle che sono applicazioni legacy. I clienti spendono molto tempo nel gestire queste applicazioni invece di concentrarsi sulla parte innovativa. La trasformazione digitale rappresenta una sfida. Spesso vediamo clienti che considerano il business e l'IT come due mondi completamente separati quindi che ne so fanno modernizzazione scusatemi, fanno migrazione senza pensare alla modernizzazione oppure fanno sviluppo di nuovi applicativi senza considerare tutti per il resto andando in conflitto con quello che è l'IT. Nella trasformazione digitale questi due mondi devono parlarsi devono collaborare e in questo modo l'IT riesce a innovare più velocemente arrivare sul mercato più velocemente allo stesso tempo scusatemi, il business riesce a innovare più velocemente arrivare sul mercato più velocemente allo stesso tempo l'IT riesce ad avere un approccio che gli permette di fare dei rilasci più agili, più veloci, iterativi a integrare nelle pipeline di rilascio quello che è la cost optimization quindi avere visibilità di quelli che sono i costi e ottimizzarli e integrare anche la parte di sicurezza perché i clienti oggi adottano AWS per accelerare nel loro percorso di trasformazione digitale un primo punto riguarda l'increase di quello che è l'agilità cioè nel momento in cui si va a utilizzare il cloud si può sperimentare molto velocemente innovare molto velocemente arrivare sul mercato magari fare un più sì e poi portarlo molto velocemente in produzione allo stesso tempo si vanno a minimizzare quelli che sono i rischi di business perché per esempio con modelli di pagamento a consumo io posso sperimentare velocemente e se voglio posso spegnere o posso portare in produzione senza avere dei rischi nel momento in cui si utilizza il cloud AWS avete poi a disposizione quelle che sono le regione e le availability zone quindi i clienti guadagnano in termini di availability della loro infrastruttura business continuity inoltre le analisi che abbiamo fatto le ricerche che abbiamo fatto dimostrano che utilizzando il cloud AWS l'IT per esempio riesce a gestire il 66% in più di server rispetto a quanto è gestito in bon prem ma anche per esempio i sviluppatori possono sviluppare un 29% in più rispetto a quanto avrebbero fatto con applicazioni tradizionali tutto questo senza dimenticare quelli che sono gli aspetti di sicurezza nel momento in cui i clienti adottano il cloud AWS possono contare su più di 143 tra attestazioni e certificazioni di compliance che possono scaricare direttamente dalla console AWS quindi dalla console AWS possono scaricare quello che è il report dal SOC al PCI e così via in più hanno a disposizione più di 300 trafici e servizi specifici per la sicurezza che possono utilizzare per migliorare quello che è il loro posizionamento in termini di sicurezza AWS continua a collaborare con i clienti e anche con i regolatori per fare in modo che tutti i workload che girano siano compliance con tutte le regolamentazioni che i clienti devono soddisfare ora AWS aiuta i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale attraverso un framework AWS Cloud Adoption Framework questo framework contiene all'interno tutte quelle che sono le nostre best practice per poter velocemente e in modo agile sfruttare i vantaggi del cloud quindi identificare l'opportunità di trasformazione definire le priorità a quel punto definire una roadmap con cui lanciare appunto questa trasformazione il Cloud Adoption Framework parte ovviamente da quelle che sono le esigenze di business quindi nuovi stream nuove applicazioni piuttosto che efficientamento di quello che sono l'operation esistente piuttosto che miglioramento di quello che è il posizionamento in termini di environment sostenibilità e così via riduzione di quello che è il rischio di business quindi si parte dagli obiettivi di business nel framework vengono individuati quattro domini di trasformazione collegati tra di loro quindi il domino di trasformazione tecnologico abilita il domino di trasformazione dei processi che abilita il domino di trasformazione dell'organization e quello dei prodotti il primo tecnologico si occupa e si si focalizza soprattutto su migrazione e modernizzazione quello dei processi su tutti quei processi che possono essere automatizzati migliorati nel momento in cui si va sul cloud pensiamo per esempio all'adozione di una data platform piuttosto che a servizi di machine learning quell'organization riguarda come appunto IT e business lavorano insieme per portare nuovi prodotti e quello dei prodotti si occupa su creazione di nuovi prodotti nuovi servizi con cui andare sul mercato tutto questo si realizza tramite quelle che sono le foundational capability nel framework se ne individuano 46 non ve le citerò tutte però queste foundational capability sono divise in gruppi che noi chiamiamo prospettive uno delle quali ha uno scopo ben preciso le capability della prospettiva business si assicurano che gli investimenti che il cliente fa abbiano un ritorno sul business quindi qua dentro per esempio rientra la parte di strategy le capability della prospettiva people si occupano di come l'azienda evolve la cultura verso un approccio di apprendimento continuo la governance si occupa del fatto di gestire l'ottimizzazione di quelle che sono l'utilizzo delle risorse con i costi la platform è quello che diciamo si focalizza sulla data platform piuttosto che l'architettura base che poi dovrà essere utilizzata dal cliente security l'integrazione la conoscenza di tutti quelli che sono gli aspetti di security quindi la vulnerability come viene gestita la data privacy e l'operational si focalizza sull'assicurarsi che le applicazioni che vengono deployate sul cloud AWS soddisfino gli SLA definiti insieme al business tutto questo ovviamente non deve essere fatto una sola volta ma è un approccio iterativo quello che il framework suggerisce è di identificare quelle che sono le opportunità di trasformazione priorizzarle scegliere quelle che hanno più valore per il business e che possono avere un impatto per dimostrare che l'adozione del cloud abbia un impatto positivo a quel punto identificare quelle che sono le foundational capabilities che devono essere colmate per far sì che quella trasformazione che viene scelta sia ottimale e poi c'è la parte di lancio quindi un primo prototipo un primo progetto in produzione che può avere un impatto significativo sul business tutto questo poi per passare alla fase di scala in cui questo viene scalato e portato su altri progetti e su altri stream se il cloud adoption framework si focalizza sul cosa deve essere fatto per comprendere come deve essere fatto quello che utilizziamo è il cloud operating model del best operating model cioè come strutturare i team in modo da realizzare questa trasformazione si parte con teami piccoli polifunzionali come vedete diciamo ci sono persone di business persone tecniche all'interno del stesso team per fare quelle che sono le foundation la base da cui partire quindi le best practice l'architettura di base i termini di sicurezza la compliance e così via tutto questo poi scala in un vero e proprio engine in cui c'è bisogno che queste skill vengono condivise verso altri team quindi c'è la parte di skilling per passare poi diciamo in una fase successiva a scalare l'intera organizzazione quindi anche magari a concentrarsi su alcuni servizi alcune tecnologie ad alto valore giunto come potrebbe essere quelle di machine learning con questo io passo la parola ad Andrea che ci parlerà della storia di Conte.it grazie grazie Alessandro buon pomeriggio a tutti è un piacere accogliervi qui per raccontarvi la journey to the cloud di Conte.it ma prima di iniziare a raccontarvi questa giorni vi voglio presentare Conte.it e il gruppo Admiral che rappresenta un ecosistema assicurativo globale di fatti oggi Admiral Group annovera più di 9 milioni di clienti e più di 11 mila impiegati in più country del mondo in particolare 7 country l'headquarter dove tutto è partito è UK con Admiral UK dove il percorso è partito nel 1993 per poi proseguire in Spagna nel 2006 in Italia con Conte.it nel 2008 e a seguire anche negli Stati Uniti 2009 e infine in Francia nel 2010 abbiamo anche altri siti in Canada e in India in particolare legati allo sviluppo informatico ma partiamo dal gruppo Admiral e dal suo purpose qual è l'obiettivo che si prefigge all'interno del mercato assicurativo il gruppo Admiral è un gruppo di financial services che è specializzato in particolare sull'assicurazione auto e moto questo è il suo pedigree storico negli ultimi anni ha anche iniziato a percorrere la strada della diversificazione di prodotto iniziando a proporre anche assicurazioni casa viaggi animali e anche prestiti personali in particolare come vi dicevo l'headquarter è basato in UK in particolare a Cardiff ed è Admiral UK l'unica compagnia gallese a essere quotata nel Fuzzi 100 quindi è una realtà molto importante in UK il purpose ossia l'obiettivo che si prefigge Admiral UK e in generale il gruppo Admiral è quello di aiutare le persone a essere protette a prendersi cura del proprio futuro cercando sempre di migliorarsi continuamente e questo è quello che anima il nostro lavoro di ogni giorno cercare di stare il più possibile vicini ai nostri clienti e renderli felici questo riteniamo che si possa fare in particolare lavorando assieme alle nostre persone quindi per noi il cliente e le persone che lavorano con noi sono il mantra che coltiviamo e proteggiamo ogni giorno vi dicevo l'obiettivo iniziale è stata l'assicurazione auto e moto ma stiamo evolvendo sempre più mantenendo un focus fortemente customer centrico e all'insegna anche della sostenibilità abbiamo di fronte a noi tre obiettivi strategici che intendiamo perseguire nei prossimi anni sicuramente vi dicevo la diversificazione di prodotto in modo tale da affermarci sul mercato con una platea di prodotti sempre più interessante evolvere poi anche il prodotto motor in funzione delle evoluzioni che ci saranno certamente nei prossimi anni nel settore della mobilità e poi quello che solitamente definiamo obiettivo Admiral 2.0 quindi andare a devolvere anche nel modo in cui gestiamo i nostri sistemi gestiamo il rapporto con i clienti in modo tale da trasformarci sempre più in una compagnia tech data driven se ci affacciamo però in Italia e ci focalizziamo su contè.it possiamo osservare anzitutto che è il più grande brand del gruppo Admiral al di fuori di UK nel 2023 abbiamo avuto una raccolta premi di 300 milioni di euro e abbiamo raggiunto il felice traguardo di più di un milione di clienti vi dicevo che per noi la soddisfazione del cliente è l'obiettivo principe quello più importante e siamo orgogliosi di aver raggiunto una customer satisfaction che va oltre l'88% e il nostro marchio è diventato sempre più riconoscibile superando la soglia del 70% vi citavo prima anche la nostra attenzione da un lato ai clienti e da un lato alle nostre persone il fatto che le nostre persone siano felici di lavorare nel gruppo admirale in conte.it è testimoniato dal fatto che siamo molto attenti al fatto che sia un best workplace e partecipiamo annualmente alla classifica del great place to work collocandoci quest'anno sul podio tra le compagnie grandi con più di 500 dipendenti e in particolare al primo posto nelle compagnie dell'ambito assicurativo e dell'ambito digitale questo è qualcosa che ci inorgoglisce particolarmente perché significa che le nostre persone sono felici di far parte della squadra i clienti sono altrettanto felici Traspilot ci certifica con un 4.7 come una compagnia eccellente e al primo posto tra i competitor diretti del mercato digitale questo è essenziale per noi perché ci dà una misura della qualità del lavoro che facciamo quotidianamente se scendiamo ad osservare il domain technology ossia l'area IT di conte.it possiamo osservare che è composta da 120 team member dislocati in tre siti tech quello centrale di Roma uno dislocato a Siviglia che collabora con le tre country Italia, Francia e Spagna e recentemente abbiamo anche avviato un hub tecnologico a Palermo ci interessa moltissimo la diversity e l'inclusion il 30% di questo domain è costituito da donne e la crescita interna il 95% dei nostri leader nell'area tech provengono da un percorso progressivo di crescita interna e si tratta di un ambiente fortemente multiculturale in questo domain ci sono persone provenienti da sei diverse country se rivolgiamo lo sguardo al passato possiamo capire dove è iniziata la nostra giorni verso il cloud nel 2019 avevamo appena concluso la migrazione del nostro sistema centrale per la gestione delle polizze verso Guidewire che è un leader di mercato tra i sistemi per la gestione del mondo assicurativo e che si sta affermando sempre più anche in Europa il resto dello stack tecnologico di Contè era certamente molto molto legacy 32 applicazioni business critical suddivise tra due data center fisici uno a Milano il primario e uno disaster recovery a Roma molto legacy di cui ci dovevamo assolutamente sbarazzare perché rappresentava un impedimento un blocco verso l'innovazione l'affinamento delle performance dei sistemi e anche il mantenimento di una security post in linea con le nostre aspettative di conseguenza sebbene alla fine di questa trasformazione tecnologica con Guidewire il business magari avrebbe desiderato focalizzarsi un po' più immediatamente sulle vendite su iniziative commerciali ci siamo interrogati forse dobbiamo ancora cambiare un po' il mindset e munirci di una tecnologia che permetta di raggiungere effettivamente questi obiettivi all'epoca avevamo sei team agile fortemente a matrice tech e erano focalizzati su diverse aree di business spesso però si verificavano conflitti di priorità discussioni tra i diversi stakeholder per capire quali iniziative dovessimo portare a casa e anche la valutazione del ritorno di investimento talvolta era un po' fumosa all'epoca in media impieravamo circa due tre settimane per portare in produzione un nuovo rilascio software e talvolta il livello di qualità era migliorabile compariva qualche bug di troppo ed erano necessari magari degli hotfix per andare a rimettere in piedi correttamente la situazione era anche estremamente faticoso gestire tutte quelle attività di security e compliance che la mantenanza di sistemi legacy ci imponeva e il time to market per arrivare dai nostri clienti con nuove funzionalità non era quello che avremmo desiderato per questo motivo ci siamo focalizzati su quattro pilastri strategici per la nostra evoluzione futura in primis l'adozione del cloud ed è quella che vi racconteremo più approfonditamente tra breve abbiamo poi spinto fortemente sull'innovazione facendo leva sui servizi AWS che da quel momento fino ad oggi ci hanno accompagnato in una scoperta continua e in un'evoluzione continua al contempo abbiamo lavorato molto anche dal punto di vista dell'agilizzazione per rendere la nostra organizzazione flessibile dinamica e pronta a rispondere alle sfide di un mercato comunque estremamente competitivo e tornando di nuovo all'importanza del lavoro sulle persone abbiamo mantenuto un focus per il loro sviluppo e che accompagnasse questa innovazione tecnologica nella seguente parte della nostra presentazione vi racconteremo questi quattro pilastri e in particolare per il cloud passo telecomando a Gianluca grazie allora ci accingiamo a parlare di cloud adoption quindi dobbiamo fare prima uno stress test di quanto è stato buono il caffè che abbiamo consumato dopo pranzo perché ho l'intenzione di analizzare con voi il codice delle 10 lambda function più utilizzate in conte.it siete rimasti tutti qui grazie per la fiducia era un bluff ovviamente quindi iniziamo a raccontare un pochino la nostra storia come ci diceva poco fa Andrea il primo passo importante è stata questa importante migrazione che è stata conseguita nel 2020 dove si è perseguita la dismissione di due data center in uno scenario legacy classico avevamo due poli tecnologici uno su Roma e uno su Milano un primario e uno di disastro e vi lascio immaginare che cosa significava per noi dover gestire queste infrastrutture sono storie che per chi ha qualche lustro alle spalle sono cose ben note di servizi mettere insieme tanti team diversi skill diverse per conseguire in maniera ottimale i risultati tanto effort tanta fatica in cinque settimane con la collaborazione dell'account team di AWS siamo riusciti a fare un decommissioning completo dei nostri due data center e a migrare tutte queste applicazioni immediatamente i benefici ottenuti erano quelli attesi quelli che ci aspettavamo quindi sicuramente abbiamo recoverato abbiamo fatto un recovery completo della nostra posture di sicurezza che non era ottimale ed inoltre abbiamo conseguito fin dai primi mesi degli ottimi riscontri dal punto di vista dei costi dell'infrastruttura perché ovviamente avevamo la possibilità finalmente di passare in un modello di payment a consumo e per cui avevamo una maggior consapevolezza e trasparenza di quello che stavamo consumando rispetto a un passato dove dovevamo fare dei forecast che venivano smentiti nel giro di qualche mese da analisi di capaciti un po' avventate diciamo e lo step successivo dopo questo primo passo è il nostro viaggio quindi come abbiamo detto abbiamo iniziato nel 2020 nel 2021 abbiamo completamente rivoluzionato la nostra area digitale la self care area dei nostri clienti attraverso la quale i clienti di Conte.it hanno la possibilità di gestire in autonomia tutte le proprie necessità che riguardano appunto i prodotti che noi offriamo loro quindi principalmente la polizia assicurativa auto e moto tutti i servizi basati su contesti cloud native che AWS ci ha offerto. Successivamente nel 2022 abbiamo fatto il vero la vera sfida la vera challenge è iniziata lì perché la piattaforma sinistri per un business come il nostro potete immaginare quanto sia critica e la nuova piattaforma sinistri che abbiamo adottato nel 2022 quindi il guidewire claim center è un prodotto che abbiamo completamente deliberato su infrastrutture e servizi di AWS lo abbiamo fatto con risultato ottimale il piano di live e le successive migrazioni grazie all'utilizzo dei servizi di AWS è stato conseguito on time senza alcun impatto per i clienti finali ma anche per il cliente interno il nostro dipartimento sinistri la data platform è un'esperienza che ha visto i suoi natali nel 2023 l'anno scorso la nostra data platform è una galassia di servizi di analytics machine learning e predictive che è completamente implementata su AWS venivamo da una logica consolidata di data warehouse quindi sapete bene che significa esigenze nuove necessità nuove di analizzare i dati era difficilissimo capire dove venissero generati questi dati come rappresentarli con questo step sostanzialmente noi abbiamo la possibilità di avere un dato near real time e dare completa autonomia al nostro cliente interno di poter analizzare investigare le informazioni con il proprio punto di vista senza necessariamente dover coinvolgere i nostri colleghi del team data o del vecchio team che gestiva il data warehouse e aspettare settimane per l'implementazione di nuovi report insomma operazioni lunghe e faticose nel 2024 quell'anno in corso la challenge importante in quest'ambito che stiamo conseguendo è un completo replatforming dei servizi che furono migrati nel 2020 quindi sostanzialmente all'epoca era stato fatto un primo lifting adesso abbiamo approcciato la cosa con una piena adozione di servizi cloud native di AWS ovviamente l'obiettivo anche in questo caso soprattutto per i servizi che sono stati oggetto di lift and shift è l'obsolescenza tecnologica l'esposizione in termini di sicurezza ma ancora una volta il continuo efficientamento dei costi ho seguito anche stamattina altri speech questo aspetto dei costi e del finops lo approfondiremo meglio dopo però è un trade union di tutti i talk di questa giornata successivamente per l'anno che verrà già abbiamo in mente la nostra roadmap che è il completamento dell'adozione del cloud andando a migrare anche il nostro gestore di polizze che è un altro silos della classe dei prodotti di gatewire all'interno di AWS vi abbiamo raccontato il percorso e adesso volevamo focalizzarci un attimino su quelli che sono i servizi chiave che abbiamo utilizzato in questa break room ci sono altre aziende che sono nostri fornitori che sono fornitori di dati di informazioni di data enrichment all'interno degli API center in una logica completamente a microservizi abbiamo completamente riemplementato le interazioni e la modalità con cui noi andiamo a prendere informazioni da questi nostri feeder e questo ci ha consentito di fare un boost importantissimo sulla capacità di osservare le performance e la qualità delle informazioni che ci vengono fornite oltre che avere una frammentazione che ci ha alleggerito tantissimo l'interdipendenza dei vari servizi quindi tutti i benefici che derivano dalla frammentazione spostandoci di nuovo sulla data platform dei servizi chiave che abbiamo utilizzato sono glue per il cleaning e la pulizia di tutti i processi di ETL del dato che prima erano un pochino sparpagliati in diversi ambiti e contesti complesi sheet excel e quant'altro e qui appunto abbiamo fatto una standardizzazione del processo di ETL e di pulizia del dato e per il tema della rappresentazione l'adozione di QuickSight ha dato come dicevo prima la possibilità all'utente interno finale di potersi gestire in autonomia il proprio reporting quindi ciascuno con il proprio punto di vista all'interno della nostra azienda ha la possibilità accedendo a QuickSight di potersi organizzare il proprio reporting su misura completamente customizzato in autonomia senza avere dipendenze da altre funzioni o team all'interno della nostra organizzazione dal punto di vista dell'AI SageMaker e Bedrock sono i servizi con i quali noi gestiamo il nostro segreto industriale il nostro successo è molto legato alla capacità di poter offrire al cliente un premio per la propria assicurazione tailored tagliato su misura con una strategia win-win il cliente riceve il miglior servizio al giusto costo e noi riusciamo ad ottenere una completa governance del nostro portafoglio clienti di conseguenza del rischio bene tutto questo noi facciamo attraverso questi servizi di cui vi dicevo prima col continuo sviluppo di modelli che appunto perseguono questo obiettivo di essere sempre più efficienti nel pricing che riusciamo ad esportare al cliente finale un'esperienza di successo molto interessante dove qui abbiamo avuto una partnership molto forte con AWS che smentisce tutti quei paradigmi del grande hyperscaler che ti offre dei servizi ma poi è tutto in mano a te se c'è un problema se c'è un'esigenza nuova noi insieme all'account team di AWS siamo riusciti praticamente a elaborare un pilot in casa che ha completamente sconvolto il nostro modello di gestione di accesso remoto ai nostri servizi in un'area molto critica perché stiamo parlando del nostro contact center quindi abbiamo delle collaborazioni esterne degli agenti esterni con società esterne che siamo riusciti a portare all'interno a fruire dei nostri servizi non più attraverso onerose e costose infrastrutture VDI con licensing onerosi maintenance patching dell'infrastruttura ma con un servizio nuovo workspace security web che consente ai clienti attraverso un semplice tab con un portale di accesso di poter garantire l'accesso ai servizi di back office della nostra compagnia in una modalità sicura efficace trasparente con un modello di billing veramente elementare completamente orientato alle esigenze del cliente infine quest'anno stiamo approcciando con dei pilot su Amazon Q Developer con l'obiettivo di innanzitutto sperimentare perché sono tecnologie di frontiera l'obiettivo che abbiamo con queste pilot è quello di aumentare la velocità con cui i nostri developer riescono a fare coding avere fin da subito la possibilità di avere degli insight dei suggerimenti dalla piattaforma e di accelerare il time to market dico una cosa banale ma in questo ambito qui non era scontato fino a qualche anno fa perché di questi strumenti qui non ce n'erano e quindi noi siamo saliti subito sul treno siamo partiti con questo pilot e vediamo dove riusciremo ad arrivare un ultimo punto come vi dicevo poc'anzi un focus sul FinOps se volete farvi amici i colleghi di finance se volete che loro diventino più inclini a concedervi l'extra budget dovete assolutamente implementare queste dottrine all'interno della vostra organizzazione noi ci abbiamo lavorato nell'ultimo anno e mezzo quel numero che vedete lì non sono frottole ok è un numero importantissimo oltre quelle che erano le nostre ambizioni e qui di nuovo grazie al supporto di AWS siamo riusciti ad avere un'infrastruttura molto più efficiente molto meno costosa e con un footprint diciamo ecologico che ci fa stare molto più sereni no? perché ricordiamoci sempre che quando facciamo un utilizzo improprio di risorse in generale quindi anche se si parla di un cloud stiamo comunque lavorando nella direzione sbagliata e che cosa abbiamo fatto noi? sicuramente anche qui l'account team di AWS ci è stato vicino illustrandoci bene quali sono gli highlight le cose da tenere sempre in bold fin dalla fase di design per poi l'execution durante la business continuity quali sono i suggerimenti le indicazioni poi abbiamo fatto qualcosa di più anche in autonomia abbiamo implementato degli strumenti dei tool di machine learning che fanno analisi sul nostro billing e noi oggi siamo in grado di gestire come fosse un incident una situazione di divergenza di costo di non rispetto del forecast che abbiamo inserito all'interno del tool di uno spike di consumo di un determinato servizio su uno specifico account e con l'integrazione nativa di questi tool con il nostro TSM noi riusciamo a ruotare subito la richiesta al team opportuno che può intervenire analizzare e fare la recovery quindi noi praticamente near real time con la stessa criticità con cui gestiamo gli incident oggi siamo in grado di indirizzare le nostre esigenze dal punto di vista del TCO parlavo degli amici di finance per loro è importantissimo che noi riusciamo a dare dei forecast e delle stime sul consumo dei nostri servizi che siano quanto più affidabili per la programmazione finanziaria in questa fase noi abbiamo un'attendibilità che è mostruosa perché noi quest'anno stiamo attualizzando di mese in mese i nostri costi e rispetto alle stime che abbiamo fatto nel 2023 veramente siamo praticamente di mese in mese un mese stiamo al 95% 97% 98% siamo molto attendibili e questa è una cosa molto apprezzata dai nostri colleghi io vi ho raccontato con estrema sintesi quella che è stata la trasformazione digitale di casa nostra di Conte.it in questi anni e come l'abbiamo realizzata sicuramente per fare per mettere a terra tutte queste queste novità abbiamo dovuto lavorare anche tanto sul lato people e quindi lascio di nuovo la parola ad Andrea che vi illustrerà un pochino le trasformazioni people della nostra azienda grazie accanto alla giorni verso il cloud e alla trasformazione tecnologica che ci ha raccontato Gianluca abbiamo perseguito con tenacia una trasformazione verso una business agility che ci permettesse di essere realmente flessibili e dinamici quanto il mercato ci richiede in particolare nel settembre 2020 abbiamo lanciato una trasformazione scaled agile framework che permette di avere una prossimità eccezionale tra stakeholder di business e profili più tecnici al contempo permettendo di migliorare la comunicazione la delivery di prodotto e la qualità abbiamo lanciato tre treni questa è la struttura canonica del framework scale agile quella del treno un agglomerato di n team agile in particolare focalizzati su diversi momenti della vita del cliente uno dedicato al canale diretto e alle nuove vendite new business uno dedicato sempre al canale diretto ma al rinnovo delle polizze e al post vendita e infine uno dedicato esplicitamente al nostro nuovo canale per gli intermediari quali erano gli obiettivi che ci prefiggevamo all'inizio di questa transizione volevamo che questi team fossero pienamente autonomi e dotati di tutte le skill necessarie per raggiungere i propri obiettivi quindi non solamente team agile di matrice tech come quelli che conoscevamo in passato ma realmente anche business oriented altro obiettivo fondamentale la felicità del cliente quella che citavamo all'inizio come nostro mantra e siamo riusciti ad ottenerla grazie a nuovi servizi nuovi prodotti che riusciamo a portare più velocemente tra le mani dei nostri clienti non dimenticando naturalmente la soddisfazione anche delle persone che lavorano nei nostri team che sono state arricchite da un costante programma di cross-skilling e up-skilling che è necessario proprio per lavorare in questi team multifunzionali e dinamici lo testimonia la crescita anche nello score del great place to work che vi raccontavo prima e un abbassamento importante della percentuale di attrition lo vedremo fra poco in parallelo volevamo anche raggiungere un abbattimento del time to market riuscire ad arrivare dal concepimento di un'idea fino al rilascio in produzione nel tempo più veloce possibile cercando anche di essere attenti nel avere una predictability giusta se promettiamo al business che fra tre mesi ci sarà una nuova area personale vogliamo essere coscienti di poterlo fare ragionevolmente in quei tempi cosa che in passato non accadeva con così tanta precisione e poi imprescindibilmente la qualità e la sicurezza al primo posto quindi questi team dovevano presidiare questi obiettivi in modo saldo e costante cosa abbiamo fatto pertanto abbiamo mappato tutta la catena della delivery del nostro valore da quando un bisogno del cliente è identificato e prioritizzato passando poi alla fase di esplicitazione di questo requisito da un punto di vista funzionale con una definizione precisa di quel test plan che andremo a condurre all'atto del delivery del prodotto un accurato design architetturale e un approfondito analisi tecnica curato in particolare dai nostri solution architect la fase del coding dello sviluppo software e poi un approfondito ciclo di testing che contempera sia testing manuale un forte focus sull'automatizzazione del testing attraverso una serie di environment che ci permettono di monitorare tutte le caratteristiche del software stesso all'atto del rilascio in produzione un accurato monitoraggio post rilascio e una valutazione del ritorno di investimento dell'iniziativa che abbiamo portato in produzione e poi naturalmente un costante monitoraggio dei difetti possibilmente presenti sul software per risolverli nel modo più tempestivo possibile naturalmente per raggiungere questi obiettivi abbiamo dovuto portare a casa degli enabler tecnici essenziali che ci permettessero dal punto di vista sia della tecnologia che del processo di essere realmente customer centrici e pronti a portare a casa gli obiettivi di business che ci prefiggevamo sicuramente un enabler fondamentale è stata una completa DevOps pipeline che ci ha permesso realmente di far diventare realtà quei principi di continuous integration e continuous delivery che volevamo perseguire e come citavo prima questa pipeline deve prevedere dei momenti di test automation estremamente accurati per garantire che l'esperienza sia del back-end che del front-end sia estremamente solida e non introduciamo regressioni sul software tra un rilascio e l'altro citavo nella catena del valore anche l'application monitoring nel 2021 abbiamo adottato come unica piattaforma di application monitoring Dynatrace ed è stato realmente un game changer perché ci ha permesso di monitorare accuratamente l'intero stack tecnologico con un'accuratezza e un approccio proattivo ed automatico che realmente ci permette di identificare possibili problemi sul software o sull'infrastruttura ancora prima che i nostri clienti se ne possano rendere conto così come è stato molto importante misurarci definire delle golden metrics dei KPI per analizzare la qualità e la business agility di iterazione in iterazione per realmente arrivare a un miglioramento continuo del nostro modo di lavorare e vogliamo raccontarvi alcuni dei nostri achievement cosa abbiamo ottenuto grazie alla journey al cloud e alla trasformazione scale da agile quattro assi il primo è la stabilità della nostra infrastruttura e del nostro software meno 75% di incidenti in produzione meno 80% del tempo medio per recuperare e un abbattimento dell'85% delle vulnerabilità di sicurezza su questo l'application monitoring l'ha fatta da padrone e ci ha aiutato realmente moltissimo delivery riusciamo a rilasciare funzionalità ai nostri clienti con un ritmo di più del 94% rispetto a prima siamo cresciuti moltissimo in consapevolezza nel processo di rilascio software e oggi abbiamo 13 agile team quindi più che duplicati rispetto a prima di questa trasformazione e riusciamo a rilasciare molte volte a settimana essenzialmente anche se lo volessimo su base giornaliera grazie a tutti questi enabler tecnologici che abbiamo implementato la qualità per noi essenziale abbiamo più dell'80% degli scenari business critical coperti da test automation e quindi presidiati di rilascio in rilascio abbiamo abbattuto del 40% i bug che individuiamo in produzione e del 60% le off-fix necessarie per risistemare la situazione naturalmente portandoci un buon impatto di saving economico che certamente è estremamente importante e ultimo ma certamente essenziale e non meno importante le nostre persone siamo cresciuti dell'8% sull'NPS che è il Net Promoter Score quel punteggio che ci dice quanto i nostri clienti ci vorrebbero raccomandare ai loro amici alle persone con cui interagiscono per noi è essenziale il cosiddetto passaparola siamo cresciuti sullo score del Great Place to Work arrivando sul podio come vi dicevo all'inizio e abbiamo abbattuto del 42% la percentuale di attrition ovvero la percentuale delle persone che ci lasciano realmente abbiamo fatto indossare ancora di più la maglia di Conte.it alle persone dei nostri team e di questo siamo certamente orgogliosi e voglio chiudere con due considerazioni la prima il fatto che le persone sono realmente il cuore del nostro modo di lavorare nei team e nel quotidiano la nostra forza più importante e vi cito solamente sei delle tante iniziative che mettiamo in campo anzitutto lo smart working e il modello ibrido abbiamo confermato e consolidato ormai da uno o due anni una modalità di lavoro che richiede alle nostre persone di lavorare in ufficio solamente due giorni al mese ma non che in modo prescrittivo per partecipare a brainstorming eventi di team meet up conferenze vogliamo che le nostre persone possano essere del tutto autonome e flessibili nel poter organizzare la propria quotidianità lavorativa abbiamo un academy di formazione soft e hard che permette alle nostre persone di crescere continuamente e abbiamo visto prima che i risultati sono buoni perché la crescita interna è estremamente valorizzata siamo attenti alla diversity all'inclusion abbiamo lanciato da pochi giorni un programma per lo sviluppo dei nostri talenti al femminile nel domain technology l'abbiamo chiamato women in tech e vogliamo che sia un percorso di empowerment per proiettarle sempre più verso una crescita nel futuro da tanti anni abbiamo anche lanciato la cosiddetta tech planet che mutuando un po' la lonely planet famosa per i viaggi descrive un percorso un viaggio per le persone che si vogliono mettere in gioco cambiare ruolo crescere sviluppare le proprie skill con mentoring coaching e tanto training che può supportarli in questa giorni well being tanta attenzione con diverse iniziative alla salute fisica e psicologica delle nostre persone e vi cito anche con particolare orgoglio un'iniziativa dell'ultimo paio d'anni abbiamo lanciato a Palermo un nuovo hub tecnologico che ospita alcune persone che abbiamo coltivato grazie alla partnership con una bellissima realtà della regione siciliana Edgmoni con cui abbiamo inizialmente supportato con delle borse di studio dei bootcamp relativi allo sviluppo frontend oppure al cloud e che ci ha poi accompagnato anche nella creazione di questo hub quindi oggi abbiamo sei persone ma contiamo nel prossimo futuro di rendere questo hub una nuova sorgente di linfa vitale per i nostri team e chiudo citando l'importanza ancora una volta della partnership con AWS che ci ha accompagnato lungo tutto questo percorso dal 2019 e con cui sicuramente faremo ancora tanta strada e passo il telecomando all'Alessad grazie grazie Andrea per questa testimonianza allora prima di chiudere volevo giusto ricordare un po' qual è l'impatto della generazione di VI e del machine learning nel campo finanziario ovviamente su database avete a disposizione diversi servizi da bedrock che vi permette di scegliere quelli che sono i foundational model da quelli open source a quelli di AWS fino a quelli di provider come Antropic e i 21 Labs e così via tutto questo diciamo vi permette ovviamente di sperimentare ma anche di innovare quindi uno stream di innovazione su AWS avete a disposizione anche la possibilità di lanciare delle stanze su cui deployare i vostri modelli quindi delle stanze per machine learning tramite SageMaker ma anche per esempio sperimentare con servizi come Amazon Q Developer di cui abbiamo visto oggi una testimonianza quindi un servizio che permette di coprire tutto quello che è il ciclo di sviluppo end to end per gli sviluppatori quindi dal coding nella console fino al supporto per il rilascio in produzione voglio chiudere con quattro quattro punti quattro kit e guai il primo è che la trasformazione la trasformazione digitale abbiamo visto non è un approccio a singolo passo ma è un approccio che deve essere iterativo quindi AWS vi può essere a fianco identificate quelle che sono le vostre opportunità di trasformazione priorizzatele e iterate e dall'iterazione potete continuare a imparare portarvi delle lesson learn e iterare continuamente per migliorare sempre di più il secondo è il modello operativo il modello diciamo modello operativo con cui strutturatele persone all'inizio del progetto non sarà quello nelle fasi successive quindi siate pronti a cambiare a ristrutturare diciamo i vostri team in modo tale che il team che oggi vi ha aiutato nella migrazione domani sarà capace insieme ovviamente ad altre persone di anche innovare il terzo è che ovviamente noi siamo al vostro fianco in un percorso di trasformazione digitale dai più di 200 servizi che mettiamo a disposizione ma anche ai framework come abbiamo oggi abbiamo visto con il cloud adoption framework ultimo giusto per ricordare il tema del machine learning e della generative AI che può essere un abilizzatore molto forte per innovare anche in un percorso di trasformazione digitale vi lascio giusto due QR code che riassumono un po' quello che vi ho raccontato per quanto riguarda la trasformazione di successo e per quanto riguarda l'adoption di AI machine learning soprattutto diciamo specifica sull'ambito finanziario con questo io vi ringrazio grazie di essere stati qui grazie alla testimonianza di Andrea e Gianluca lasciate tranquillamente i feedback sull'app grazie ancora e il buon frasso di nuovo